La promessa anticipazioni. Nel prossimo episodio della promessa, i segreti più oscuri saranno finalmente svelati. Un evento inatteso interromperà una serata apparentemente normale. Vera, inaspettata protagonista di questo dramma, farà un annuncio che cambierà tutto. Ma cosa sta per rivelare? E perché questa confessione è così importante? Prima di continuare, se vuoi rimanere aggiornata e ricevere in anteprima i video della promessa, scrivi sì nei commenti. Ricominciamo. Durante una cena nella sontuosa villa, la tensione sarà palpabile. Gli ospiti presenti noteranno immediatamente che qualcosa non va. Gli occhi di tutti si sposteranno su Vera, la quale fino a quel momento sembrava essere solo una semplice cameriera. Ma dietro quella facciata si nasconde una verità sconvolgente. Vera non è chi tutti pensano. Le sue parole spezzeranno il silenzio. Non sono qui per servire, ma per smascherare. Ma cosa significa questa affermazione? Vera ha vissuto nell'ombra con un unico scopo. Svelare un crimine del passato che potrebbe distruggere una persona molto potente nella villa. Quella persona è Cruz, la Marchesa. Cruz ha nascosto molti segreti, ma mai avrebbe immaginato che qualcuno come Vera potesse essere così vicino alla verità. Vera, infatti, ha prove che dimostrano la colpevolezza di Cruz in un terribile crimine. Ma quale crimine? E come è possibile che Cruz, così potente, non si sia accorta di essere osservata così da vicino? Mentre Vera pronuncia queste parole, gli ospiti trattengono il respiro e Cruz, colpita da questa rivelazione, tenterà di negare tutto. Ma le prove sono schiaccianti. La verità è pronta a venire a galla. Cruz è davvero colpevole? Non è solo una questione di orgoglio, ma di sopravvivenza. Se la verità verrà alla luce, Cruz perderà tutto. Il suo potere, la sua ricchezza e forse anche la sua vita. La tensione è insopportabile e Cruz dovrà prendere una decisione drastica. Cosa farà per proteggere il suo segreto? Questa cena non sarà un semplice pasto, ma un campo di battaglia dove le alleanze si formeranno e si spezzeranno in un attimo. Cruz, con il volto pallido e lo sguardo d'acciaio, si alzerà dalla tavola, camminando con passi decisi verso Vera. Non pensare di potermi distruggere così facilmente, sussurrerà, mentre l'aria si farà più densa e ogni secondo sarà carico di pericolo. Mentre tutto si svolge davanti agli occhi increduli degli ospiti, anche Petra, la fidata cameriera di Cruz, avrà un ruolo cruciale in questa partita a scacchi. Petra ha sempre servito fedelmente la Marchesa, ma adesso è divisa. Aiutare Cruz a mantenere il segreto o rivelare la verità e salvare se stessa. Cruz le ordinerà di indagare su Vera e scoprire tutto ciò che sa, ma sarà troppo tardi? A metà del dramma, la tensione salirà ulteriormente quando Cruz affronterà Vera con una domanda secca. Cosa sai davvero? Vera risponderà con freddezza, ma le sue mani tradiranno il suo nervosismo. Cruz non si fida e quando si trova davanti a una minaccia non esita ad agire. Vera sa di essere in pericolo. Vuoi scoprire come si evolverà questo scontro? Scrivi nei commenti cosa pensi che succederà tra Cruz e Vera. Chi sarà la prossima vittima? Lascia un sì se vuoi continuare a seguire questa storia. Nel frattempo, mentre la tensione tra Cruz e Vera aumenta, Petra si troverà in una posizione difficile. Se Cruz scoprisse che Vera ha prove del suo crimine, potrebbe distruggere tutto. E Petra? Lei dovrà decidere se restare leale o tradire la Marchesa. Cruz, con la sua solita freddezza, darà a Petra un compito chiaro. Far sparire Vera. Prima che sia troppo tardi. Petra sa che la sua vita è in gioco, ma può davvero commettere un crimine così atroce per proteggere la Marchesa? O forse è proprio Petra a nascondere altri segreti? Tutto culminerà in una cena indimenticabile, dove Vera, con un coraggio inaspettato, sfiderà Cruz davanti a tutti. Ma cosa accadrà? Vera riuscirà davvero a svelare tutto o verrà fermata prima? Il pubblico sarà testimone di un colpo di scena che nessuno si aspetta. Mentre i giorni passano, Petra seguirà ogni mossa di Vera. La osserva, la spia, cercando di scoprire quanto sa. Ogni parola, ogni gesto di Vera è analizzato con attenzione. Ma Vera non è stupida. Sa che Petra è stata mandata da Cruz per scoprire la verità. E proprio quando tutto sembra volgere al peggio, Vera fa un passo audace. Avrà un confronto privato con Lope, confidandogli qualcosa di scioccante. Ho le prove. A questa cena tutto verrà alla luce. Dirà Vera con determinazione. Lope, preoccupato per ciò che potrebbe accadere, cerca di dissuaderla. Stai giocando con il fuoco. Cruz non è qualcuno che si può affrontare così. Ma Vera è determinata. Le prove che ha contro Cruz sono troppo forti. La promessa che ha fatto a se stessa, smascherare la colpevole, la spinge avanti, anche se il rischio è altissimo. Mentre Vera si prepara per la cena, Petra ascolta ogni parola, nascosta dietro una porta. Sa che Vera sta per distruggere tutto. E ora, cosa farà Petra con queste informazioni? Tradirà Cruz o cercherà di fermare Vera prima che sia troppo tardi? La cena sarà il momento della verità. Tutti gli occhi saranno puntati su Vera e ogni parola potrebbe essere l'ultima. Cruz tenterà di salvare se stessa, ma Vera è pronta a tutto. Ci saranno segreti, tradimenti e forse anche un sacrificio inaspettato. La tensione sarà così alta che nessuno sarà al sicuro. Se vuoi scoprire come finirà questa cena e chi tra Vera e Cruz riuscirà a prevalere, non perderti il prossimo episodio della promessa. Ma prima, lasciaci un commento. Pensi che Vera riuscirà a svelare la verità? Oppure sarà Cruz a fermarla prima? Il destino dei marchesi è in bilico e solo il tempo ci dirà chi avrà la meglio. Ricorda, in questa storia di potere e vendetta, nessuno è mai davvero al sicuro. Vera ha fatto una promessa a se stessa, ma riuscirà a mantenerla senza distruggere tutto ciò che le sta intorno? Non perdere il prossimo episodio per scoprirlo!